Un sogno per rilanciare il paese. Si presenta così Alberto Milo pronto a dare il suo contributo alla causa della città. Abbiamo un sogno per la nostra città, abbiamo un sogno che ovviamente vogliamo realizzare, ma è un sogno che accomuna un po' tutta la comunità angrese che condividono tutti i cittadini e cioè riportare la nostra amata Angria allo splendore che merita. Nel gruppo degli alleati, giovani e volti noti delle passate maggioranze Mauri e Ferraioli, dagli ex consiglieri Bonaventura Manso, Marco De Simone e Luigi Mascolo, all'attuale rappresentante in assise di Fratelli d'Italia Ivan Lanzione. Abbiamo un gruppo di persone variegate perché io sono convinto che una coalizione, soprattutto a livello locale, si faccia sulle persone e si faccia sui temi. Ovviamente un requisito essenziale è quello di essere delle persone per bene. Voglio dire che la squadra che abbiamo messo insieme ci accomuna, siamo dei ragazzi che svolgono l'attività politica con passione e non la svolgono per ottenere in cambio chissà quale vantaggio di tipo personale. Amiamo questa città, ma io personalmente l'ho dimostrato in tutti i modi che conosco. Credo di poter fare tanto, crediamo di poter dare quella spinta che serve per recuperare, ripeto, un po' il rispetto che meritiamo. Un gruppo che ha sposato un progetto onesto e senza menzogne, come lo definisce Alberto Milo, tre punti essenziali introdotti dallo start-up politico dei primi cento giorni. Il nostro progetto è un progetto realistico, noi siamo persone oneste e non siamo abituati a raccontare menzogne. Ci saranno tre capisaldi, nel senso tre grossi progetti che trasformeranno un po' la faccia della nostra città. Ovviamente poi ci saranno tanti interventi satelliti che cambieranno il volto di Angri, ci saranno anche i nostri cento giorni, ma saranno cento giorni che peseranno, certamente non saranno cento giorni farlocchi come ci ha abituato qualcuno in passato. Per Milo resta fondamentale il recupero e la preservazione tucur delle funzioni di filiera istituzionale coglienti sovraccomunali. Questi collegamenti ci sono già attualmente perché siamo abituati a non litigare con nessuno perché sappiamo benissimo che senza l'apporto di politici o di istituzioni sovraccomunali rischiamo di far isolare la nostra città. Noi questo errore non lo commetteremo, abbiamo buoni rapporti con chiunque perché è nostra intenzione far arrivare i milioni di euro di finanziamenti europei e regionali che negli ultimi cinque anni non si sono per nulla visti, non abbiamo beccato un solo euro.